Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese e Fedeli. Cominciando dal maltempo, segnaliamo che sta piovendo su gran parte della Toscana, raccomandiamo di modellare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Per la mobilità in A11, code e attratti per traffico tra Pistoia e Vivo con la 1 e coda per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola, il tutto verso Firenze. Qualche problema in Fipili dove troviamo 5 km di coda per incidente tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione di Pisa. Verso Firenze, code e attratti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra e Firenze e Scandicci. Siamo a traffico urbano di Firenze stasera, domani sera e dopodomani. La linea T1 sarà interrotta tra Lamanni e Strozi dalle 21.30 fino alla fine del servizio, ossia fino a mezzanotte e mezzo. Il tratto sarà servito da bus sostitutivi. Sarà regolare il servizio tra Villa Costanza fino ad Alamanni, superata la quale la T1 farà eccezionalmente capolinea a unità. Muoverse in Toscana in fa un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!